Un mille video, cazzo Senza nemmeno un taglio Invece questo, Luca Nemmeno lo taglia Lo Incolla Lascio likes Altri mille di questi uncuts Buona visione, bello Vico la vita Mentre Tristana Mi sembrava forte Vi stai divertendo ragazzi Se vi stai divertendo Datemi pure dei soldi, punto scattivo prime E vedrete la vostra vita, migliorerà Grazie mille, ragazzi siete migliori Numero uno, la chat più bella di Twitch Italia Siete voi, scopazzi, ragazzi che escono Pazzi Già, ragazzi Grazie mille, ti alziare, cliccate su quel link E entrate in un mondo fatto di perdizione Droga E donne di facili costumi Benvenuto King Asa King Smolder è open La cosa mi mette tristezza Anche Senna è open Potremmo Giocare Temkens No ragazzi Conoscere la prima puntenta Ragazzi Non mi hanno fatto sapere un cazzo Quelli di prima puntenta Sono stato un po' un professional Da questo punto di vista Anche perché Dovevo uscire a marzo La psichiatra mi ha incurciuto Le prime impressioni Non ve lo consiglio Finchè non lo leggo Comunque Me l'hanno parlato molto bene Anche alcuni fan che l'hanno già letto E anche la ragazza che me l'ha prestato E Sembra scritto molto bene Però secondo me È un libro un po' pesante Non mi piace Molto consigliare libri pesanti Bella pollo La psichiatra si chiama Bella Invictus Cogliotto Tanti bacini Disco col team Tanti bacini Ok. Grazie a tutti. 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 Puttana se stai attento amico... Amico Nautilus. Ah ma è il ragazzo che prima abbiamo spaccato? Ti vorrà vendicare immagino. E' un fake reset eh amici. E' un fake reset eh amici. Puoi flashare? Puoi flashare? Puoi flashare? Puoi flashare piccolo hobbit? Puoi flashare? E non puoi flashare. Non ce l'hai il flash. Beh direi bene. Beh direi bene. Beh direi bene. E pushiamo. Aspetta la musica. What the fuck? Aspetta la musica. Aspetta la musica. Allora. Allora vediamo un attimo. Frozen. Ma l'ammazzo mai. Frozen com'è? Ci hanno. Ehm... Non mi fa impazzire. Vlog at night. Sono sempre l'idea. E chi è questa bella cimina? E sei tu. Vai King TVB. Dai. Se non muore è finito il game eh. Ehm... Ehm... Beh direi bene ragazzi. Siamo in vantaggio su tutta la mappa. Devo essere solamente un po' più incazzato. Ricordarmi il tizio di stamattina che mi ha fatto tiltare. Aspetta ma io... Uh... Siamo congiuntati o no ragazzi? Non si può giocare. Che mi ha fatto tiltare stamattina? Un challenger. Mi ha augurato il cancro. E... Mi ha detto che sono una merda perché sono un master player del cazzo. Che non valgo nulla. E aveva ragione ragazzi. Sono master. Bollente questa ulti. Potrei grabbarlo ma mi sembra così inappropriato. Perché non ricollare? C'è una piena di soldi. E non c'ha... Un item. Potrebbe essere una buona idea. Oh... I lupi. Che sfiga. Potrebbe ultare pantheon? Non ulta. Ho la pozza usiamo. Abbiamo lo ulti i Kragas. Mamma mia. Ma che team è? Ma siamo fortissimi. Siamo fortissimi, coordinati e belli da vedere. Sembra l'Inter di Murigno. Siamo fortissimi. Siamo fortissimi. qui si paccato o io ho bad vibes ho bad vibes fia di me questo è buono ah so open top beh un bel messaggio a ledge agna uuuuh c'è un buco uuuuh lo uccidevo si era morto locket è l'idea secondo me qua 800 più 450 ok no potevo grabbarlo mi sono estratto lui muore non credo proprio ma quanta quanta risorse hanno investito in bot ci facciamo questo 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 muore qualcuno eh eh ma zio non è facile usare se non lo fai giocare infatti è fatto pergare no 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 C'è, c'è Smollers, c'è Smollers sicuro C'è un buco? Mamma mia, ma che cazzo di problemi ho oggi? Ma abbiamo buzzi l'idea È possibile giocare? Da fastidio per il carry ever che l'abbiamo rovinato ma abbiamo preso un flash, abbiamo fatto una kill su send che sta scalando ancora di più Abbiamo dato support per top laner, che è Worf Il top laner, questa è la sua situazione da top lan quindi Dà solamente fastidio psicologicamente ma da un punto di vista strategico la scelta giusta Posso holdare uno di due? Può essere, sai Mi farei grabbare? Aspetta un attimo Quale è la mia giocata? Ma siamo sicuri che io muoio? Come? Eh no ma non c'è un salvataggio per me Mi doveva salvare Yasuo, ma poi mi sa che non dovevo flashare verso Smollers Comunque c'era un mondo dove io mi potevo salvare Non so qual è però Ci devo riflettere sopra Vince credo Oddio Ma lui proprio ti tira di Comunque League of Legends è troppo Oh mo Oh Oh, sorrendano tutti eh, bastava uno stronzo che mi flammasse, bastava uno che mi guardasse dall'alto verso il basso, bastava uno In segretanto siamo tornati in Grand Massacre GG bro, GG king Unlucky, no one else join, otherwise I would've join the call No problem, I honor you, Gragis Yeah bro, I'm Gragi bro Have a good day king You too man, see ya bro See ya Ve l'ho detto, era entrato in disco, so sfigato, ma niente Vabbè, ci vogliono anche cosa... ma perché mi danno tilt proof? Ma perché mi danno tilt proof? Ma perché dovrei tiltare? Scusami un attimo Perché mi danno il tilt proof? Me ne vado ragazzi Grazie Grazie